aboliamo il motore a scoppio ad aosta al magnifico supercharger valdostano con addirittura 14 stalli uno dei più grandi d'europa qui abbiamo una model x da dove dalla svizzera fra switzerland e in gias bozza wine fantastico vengono qua anche degli svizzeri a ricaricarci hanno fatto la spesa limoncello vino rosso e va in alle panettone tutto e panettone for christmas ma from where geneva afro geneva you like the model x si verrà in manche ecco di qua questa è una model x della svizzera da ginevra e hanno appena comprato il panettone pensate un po tutti questi camion dell'autoporto qui ad aosta pensate se fossero elettrici visto che ormai il nuovo camion tesla c'è l'hanno anche comprato delle grandi aziende americane addirittura una in italia ha fatto un ordine perché anche una filiale americana e quindi pensate un po la differenza se tutti i camion anche fossero elettrici qui è un sogno abbiamo fatto una piccola gita siamo venuti a respirare un po di aria buona adesso ci ricarichiamo per tornare a torino eccezionale supercharger si ricarica a 120 kilowatt intanto valentina si gode il calduccio e vale ti gode il calduccio qua ebbe la ricarica ormai quasi completa e aboliamo il motore a scoppio con tesla effettivamente molto facile si paga però poi dopo sia la ricarica gratis vita è un altro mondo voi siete dei pionieri però avete in cambio un servizio eccellente l'assistenza tesla veramente di coccola e qualunque problema viene risolto e voi avete gli aggiornamenti del software gratuiti a vita dalla guida autonoma e di ogni genere di comfort vedete qua gli svizzera hanno comprato vino e panettone sono pronti per farsi il natale in svizzera alla grande facciamo un saluto ciao arrivederci lui si fa ancora una fumatina noi invece non fumiamo un carissimo saluto e aboliamo il motore a scoppio a tutta elettricità tutta rinnovabile anzi ciao ragazzi